benvenuti duellanti qui hueco tracca per il team united we stand questa sera in compagnia di judoka 91 buonasera duellanti ciao tracca benvenuti benvenuti l'argomento che andremo a affrontare stasera serve per fare un po di chiarezza visto che c'è tanta disinformazione al riguardo e stiamo parlando proprio di speed duel in europa e della situazione di questo nuovo mini box il midterm destruction come potete vedere qui abbiamo il sito nord americano di udo su cui è stato preso il riferimento dell'annuncio di quando è stato presentato il nuovo box e che solitamente è la fonte principale perché vengono sempre caricati prima lì e poi vengono messi sul nostro sito questa come come tutte le altre volte si era dato per scontato che a ridosso dell'uscita europea avremmo avuto anche i nostri aggiornamenti gegè se tu ti ricordi bene quando eravamo in attesa dell'ultimo box la città dei duelli abbiamo dovuto aspettare per il preordine fino all'inizio del mese stesso di agosto per poterlo effettuare quindi non si non siamo nuovi no ad avere delle tempistiche un po particolari per quanto riguarda speed duel assolutamente quindi questa cosa ha fatto un po passare sotto traccia il fatto che in realtà allo stato attuale in europa questo mini box non è stato ancora annunciato diciamo questo non che è stato cancellato perché a differenza di come si sta continuando a dire tra reddit video di video su youtube discord noi sul nostro sito europeo in questo caso italiano ma in generale per tutta europa non abbiamo mai avuto l'annuncio del mini box esatto noi allo stato attuale siamo fermi alla stp 6 come annuncio speed duel non ha avuto altro materiale per ora questo di sicuro non è un bene no però non è una cancellazione no perché tanti stanno dicendo che speed duel in europa è finito speed duel in europa non esiste più conami ha interrotto speed duel no non è proprio così cioè allora il giorno che conami si sveglierà e dirà da oggi speed duel non verrà più prodotto in europa allora ce ne faremo una ragione è stato bello saluteremo tutti quanti gli iscritti e sono stati degli anni fantastici assolutamente però nel momento non è così cioè non c'è nessun comunicato ufficiale che speed duel perché per formare un per fermare un formato cioè lasciare attivo solamente in parte del mondo ma in altri no beh comunque adesso sia qualcosa di di così strano no comunque molto strano esatto eppure perché 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 sì no 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 appunto al punto forse stai per dire qualcosa che dico io no beh volevo dire che da quanto abbiamo sempre saputo fino ad oggi in realtà le carte di speed duel sono stampate in belgio quindi è strano stampare un prodotto in belgio ma non distribuirlo e distribuirlo soltanto in a me in nord america e non in europa dove hai la la fabbrica delle carte questo è molto strano ovvio è ci può essere stato qualche cambio a livello direzionale questo non possiamo quello può essere quello può essere tutto è partito da questa mail che hai mandato tu un giorno che esatto sul tutto è partito da lì cioè stavamo parlando sul sul nostro gruppo di team dicendo ragazzi ma eh non si può sapere una data possibile che ancora eh la sensa no? ha pensato bene di scrivere a Konami come potete vedere la data riportata su questa mail è del 21 febbraio 2024 quindi ben prima che sui vari discord e reddit e scoppiasse poi tutto il putiferio del speed duel non è più presente in Europa esatto poi è perché noi l'abbiamo condiviso e da lì c'è stato un inizio di ok rivolgiamoci tutti quanti ai vari support dei vari paesi per capire se qualcuno sa qualcosa teniamo presente che chi ci risponde in queste in queste mail sono gli addetti di sicuro non sono i capoccia che sanno cosa succede ai piani alti però un indizio di sicuro ce l'abbiamo come potete vedere qua chiedevo informazioni del set dato che non era ancora preordinabile al 21 di febbraio e non era disponibile sul sito europeo la risposta che abbiamo ricevuto è stata che al momento il prodotto non è nella lista dei set che verranno rilasciati in Europa quindi ci ha detto quello che già sapevamo sul sito non c'è quindi sul sito non c'è questa è stata la risposta ufficiale esatto infatti c'è scritto nel caso di vostra ragionamenti ma non hanno pubblicato il trend sul sito è il tipo guardate lì perché non sappiamo tanto quanto il sito non ci ha dato alcun tipo di informazione qualcuno ha ricevuto abbiamo visto sul discord delle risposte leggermente diverse dove dicevano al momento in Europa non è previsto il rilascio più generalizzato però è comunque una risposta standard da parte di chi magari non sa e si si rivolge proprio al sito come noi per darci informazione esatto perché non penso che un impiegato possa dirci no guarda il prodotto esce dopo domani lo mettiamo sul sito stai tranquillo no assolutamente noi ci abbiamo provato per vedere se si riusciva a strappare qualche informazione ma purtroppo così non è stato piccolo piccolo ritorno sull'argomento sito perché a discapito proprio del discorso speed 2 l'in Europa è finito vorrei mostrarvi una cosa andando sulla pagina della stp 6 italiana ci si apre la sua pagina con le link di riferimento se noi nel link andiamo a fare due modifiche mettiamo il numero 7 e togliamo la selezione italiana lasciando la pagina europea ho sbagliato a fare il cancella il cancella allora togliamo il 7 dal fondo e andiamo a togliere it e diamo l'invio ecco che abbiamo accesso alla pagina della stp 7 non ancora annunciata quindi questa pagina non è ancora disponibile sulla home page di Yu-Gi-Oh Europa però e c'è è già stata predisposta con un da confermare to be confirmed però abbiamo la pagina quindi perché caricare la pagina della stp 7 ma interrompere speed 2 cioè qual è il sembra 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 quasi che ci sia uno stop in Europa ma in generale per gli eventi per i WCS per le date per la storia del perché l'ultimo WCS che hanno fatto che loro cos'è Sydney l'ultimo è stato Sydney che loro considerano in Europa la giant card non c'era di speed 2 non c'era non c'era la giant card di speed 2 esatto quindi è come se fosse stop questa cosa come se speed fosse stop per l'Europa però è strano perché comunque in Francia l'anno scorso al nazionale c'erano 60 persone a quasi esca abbiamo fatto a Bologna quest'anno per quanto il meta facesse pena c'erano quasi 30 persone cioè voglio dire comunque ovviamente non parliamo dei numeri del GOT dell'Edison o del formato avanzato però comunque sia dei numeri ci sono quindi perché annullare un prodotto che tra l'altro loro usano per fare varie di stampa per i time wizard perché è così no lo fanno per quello abbiamo visto con macrocosmo l'abbiamo visto con l'ente di leone adesso che uscirà nel prossimo box praticamente vengono usati tutti per queste cose qua allora perché interromperlo cioè non c'è poi magari ci possono essere altre duemila motivazioni che noi ovviamente non sapremo mai il beneficio del dubbio lo lasciamo aperto anche perché fino a comunicato ufficiale noi non possiamo sapere nulla ma allo stesso modo perché andare a come hanno fatto diversi youtuber anche di con alti numeri che però magari non sono proprio avvezzi all'argomento speed andare a andare a continuare a dire che speed duel è interrotto in europa fine di speed duel esatto secondo noi è sbagliato perché sì c'è un problema ma non è non è un problema che si limita speed duel direi no tacca volevo farti una domanda tu riesci a fare la stessa cosa che hai fatto col box ho provato mettendo diverse parole chiave ho provato sia come è salvato sul sito nord americano quindi solo con la sigla sgx4 ho provato anche utilizzando le terminologie invece nostre sia del box normale che mini ma non esce nessuna pagina non so se ha un nome differente o se la pagina tuttora non è presente questo non te lo so dire va bene ultima nota per quanto riguarda appunto quello che dicevamo prima la lentezza di speed in europa come diceva gg c'è stato il ycs di sydney adesso la pagina del ycs non è più raggiungibile o perlomeno io ci ho provato non sono riuscito a trovarla ma se voi andavate nei giorni dell'evento sulla ban list per quanto riguarda i side event di speed duel non vi usciva l'ultima l'ultima disponibile con il ban di my precious queen vi usciva questa questa qua cioè quella precedente che è quella tuttora disponibile sul sito europeo di yugio quindi per questo lo dico per questo dico capite che c'è qualcosa che non va cioè nel senso che è proprio bloccato tutto l'intero sistema non è solamente il box di gx a non dover uscire perché speed duel muore l'europa semplicemente è evidente questa cosa come se il team di speed duel l'europa fosse bloccato per qualche motivo che noi non sappiamo non sapremo mai perché non lo diranno mai una cosa del genere però è come se fosse bloccato e questo blocco io non so se ne parlavo ieri con tracca non so se può essere una prova cioè vedere cosa succede se viene tolto in una parte del mondo lo speed duel che non so se sia di marketing o se sia comunque a livello di gioco proprio è ovvio che è una fetta che comunque speed duel lo sappiamo che a livello live esiste solamente negli eventi grandi perché purtroppo è solo l'euro purtroppo la pandemia non ha aiutato e non si è riuscita a sbloccare come doveva sbloccarsi però loro pensano magari eliminandolo poca volta adesso l'europa domani dall'america in automatico dimenticheremo speed duel un po' come rush duel possiamo dire così non so in automatico mettiamo una parola fine quindi può essere una prova però mi sembra strano una prova perché? perché annunciare un prodotto solamente in una parte del mondo o nell'altra? non annunciare un prodotto loro facciamo un anno e mezzo di stop come abbiamo avuto la prima città dei duelli dove siamo stati un anno e mezzo senza che si erano più notizie lì veramente si aveva il dubbio che speed duel andasse avanti perché siamo rimasti un anno e mezzo senza prodotti senza prodotti senza annunci non si sapeva nulla però adesso annunciare un prodotto solo in una parte d'Europa e del mondo mi sembra un po' assurdo mi sembra una cosa veramente assurda e lasciare speed duel fermo in Europa addirittura alla limited prima ancora della Mepicius Queen allora io domani dovessi mai andare al nazionale che si terrava da Bologna l'8-9 giugno vado a vedere che ci sono i side event di speed perché la giant è entrata l'autunno allora i side event mi becca ancora mai più su screen capite che c'è qualcosa che non va c'è veramente qualcosa che non va c'è qualcosa di strano in tutta questa situazione in tutta questa gestione qui quindi questo è il recap di quello che è adesso senza dicerie quello che avete visto quello che vi abbiamo mostrato è ciò che si sa ad oggi ovvio tutti quanti noi ci auguriamo che il 29 il prodotto esce in Nord America c'è stato un ritardo per la distribuzione per la produzione non lo sappiamo mettono l'annuncio ce lo daranno ad aprile a giugno non lo so vedremo restiamo fiduciosi in attesa perché fino a quando non ci dicono speed duel è finito noi ormai siamo forgiati dato che seguiamo speed duel dal 2019 quindi sappiamo che bisogna aspettare delle volte per avere qualche risposta mi raccomando non fatevi ingannare da chi vi ripete che speed duel in Europa è finito garantito 100% perché non è vero non abbiamo alcuna prova al riguardo esatto più che altro perché comunque sia poi termino dicendo questa cosa qua che secondo me è assurdo pensare che per quanto piccolo un mondo di speed duel possa morire al momento all'altro sarebbe davvero diciamo anche che sarebbe davvero triste perché il progetto speed duel nato forse un po' in un periodo sfortunato un po' non è stato magari lanciato o con una pubblicità adeguata però ha un potenziale incredibile e più i prodotti escono più i box escono più lo vediamo come si sta evolvendo il gioco ed è veramente un peccato pensare di non poterlo più giocare tra di noi come abbiamo sempre fatto in compagnia noi del team ritrovandosi con le carte eccetera quindi ci auguriamo davvero che sia un problema temporaneo e che ci diano qualche informazione al più presto esatto direi che per questo talk è tutto fateci sapere la vostra nei commenti secondo voi cosa sta succedendo o perché sta succedendo e noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video un saluto ciao a tutti duellanti ciao a tutti